operativo da siena verona 5 ragazzi per quanto mi ricorda vi do il mio ultimo vela ringrazio a tutti per il bel tempo passato insieme e che dire un abbraccio forte a tutti grazie grazie a voi ragazzi grazie a voi mi avete tenuto giovane fino ad oggi grazie 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 grazie